Buongiorno, si è riunita la commissione che dovrà procedere al sorteggio dei componenti delle commissioni per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di anestesia e reanimazione e un posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica. Andiamo innanzitutto a verificare che ci siano a disposizione le palline con i numeri da 0 a 9 per quanto riguarda le unità. 9, 6, 7, 8 e 9. Per quanto riguarda le decine, nell'elenco dei direttori di unità operativa complessa della regione Lombardia di anestesia e reanimazione ci sono 61 nominativi, quindi andiamo a verificare che ci siano le palline con i numeri da 0 a 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Procediamo quindi con il sorteggio e andiamo ad estrarre il componente titolare della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente di anestesia di rianimazione. 0, quindi decine 0, unità 1. numero 1, Albertoni Alberto, ASST di Bergamo Est. Andiamo a sorteggiare splente, decine 2, unità 0. numero 1, numero 2, chi è regato Arturo? A SST Grande ospedale metropolitano mi guarda. Passiamo adesso al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente microdisciplina di radiodiagnostica. Verifichiamo che nell'elenco dei direttori di struttura complessa della regione Lombardia ci sono 40 nominativi. Quindi dal sacchetto delle decine dobbiamo togliere i numeri 5 e 6 e lasciamo soltanto le palline con i numeri 0, 1, 2, 3 e 4. Quindi le unità restano invariate. Procediamo al scorteggio della componente titolare. 0 4 Benelli Gianpaolo ASST di Crema Andiamo a Splente 10 3 30 8 38 Voltolini Luca Emilio ASST di Bergamo Ovest La Commissione La Commissione ha terminato il lavoro. Grazie a tutti. San ails Grazie a tutti